si signora esatto signora certo, due volte al giorno dopo i pasti si, no, mi raccomando non esageri benissimo certo se ha dei problemi o non continuano a stare bene mi raccomando torni qui proviamo l'altra medicina perfetto buona giornata e si riguardi arrivederci sì, il prossimo oh ciao hola eh, vedo che non c'è una bella faccia qui scusa se te lo dico non stai tanto bene, vero? sì, certo che posso darti un'occhiata ci mancherebbe controlliamo subito scusa un secondo Andy cara sì guarda mi fa il favore di servire tu i prossimi esatto, sì eh, devo un attimo controllare qui eh, sì magari ci metto un po' di più grazie mille prezioso, prezioso, prezioso molto bene torniamo a noi allora, perdonami ti tocco un secondino guardo un attimo perché non mi convince per niente ma dimmi dimmi intanto che cosa ti senti com'è com'è successo tutto ciò sì infatti vedo che hai il naso un po' arrossato ti senti un po' congestionato un po' chiuso eh, ma in realtà ora come ora è anomalo chi non si sente così non so se senti anche io purtroppo non sono proprio al cento per cento eh, sì, sì, sì eh, ma con questi primi freddi queste temperature così che non si capisce niente è fatica sì, molto semplice ammalarsi sì, ma questo potrebbe essere un po' di tutto semplicemente un'allergia oppure anche sai cosa un po' di è uno sbalzo di temperatura certo certo, certo un colpo d'aria questa non è la cosa che mi preoccupa di più però aspetta un secondo scusami fammi sentire la fronte è sei caldina sì, sì, sì secondo me qui c'è un po' di febbre quando compare la febbre vuol dire che c'è un'infezione in atto quindi dobbiamo dobbiamo intervenire assolutamente poi che cos'altro un po' la cula fammi sentire fammi sentire tocco un po' qui allora aspetta girati un po' di qua vediamo un po' rinfonuti sono un po' a confini apri un attimo poi vedi ancora la luce no, 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 no qui vedo che c'è già un po' di rossure no, no, no sì no, no guarda dobbiamo assolutamente guardare meglio e intervenire poi altro quindi abbiamo detto un po' di mal di cola sì più questa zona magari qua è perché qua ci sono i linfonodi quindi quando fa male qui vuol dire che questi si stanno diciamo un po' irrigidendo perché stanno combattendo con l'infezione il naso un po' chiuso un po' che cola la febbre perché sono abbastanza sicura che quella ci sia e per il resto ma scusami ma che cos'è qui sul braccio? no questo è un graffio importante ma che cos'è successo? come? no, no, no no, no capisco tutto ci mancherebbe bellissimi gatti però questo graffio qui non va bene no perché vedi se non il gatto è tuo di un amico eh no, no perché guarda che potrebbe anche farti infezione perché no, no, no allora adesso interveniamo subito con tutto allora come prima cosa andiamo a misurare la febbre così intanto che facciamo la medicazione e tutto il resto il termometro va e sì effettivamente qui siamo un po' un po' indietro nel tempo perché ancora mi fido solamente del termometro mercurio secondo me è proprio il migliore non esistono di così affidabili ok guarda avvicinati un secondo alza la scella sì sì si tira giù un po' la maglietta guarda ti aiuto io ok e andiamo a inserirlo qui perfetto ok cari allora sono i sei diciamo di 1 a 5 minuti quindi più o meno agli 11 12 lo andiamo a rimuovere adesso eh no aspetta devi soffiarti il naso guarda do un fazzolettino eh sì bisogna sempre uscire con i fazzoletti ma mi rendo conto che ci sono quelle volte che prendi tipo sul mondo ma i fazzoletti non li hai mai eh lo so capita anche a me io ora ho iniziato a prendere questi qui questi qui sono quelli nei pacchettini piccoli devo dire che sono molto più comodi ok guarda voilà prego tieni pure perfetto allora guarda andiamo un attimo a vedere l'intensità della febbre un attimino ti faccio seguire una lucina è una lucina particolare qui nella mia farmacia ho delle cose un po' particolari questa è fatta così quindi adesso vorrei che tu la guardassi un secondo guardala bene un po' più vicino un po' poi di qua anche di qua di qua poi di là poi di qua vedo che vedo che minimo 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 si i riflessi sono un pochino rallentati ti devo dire la verità quindi mi viene da pensare che non sia solo 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 un'allergia o una cosa di questo genere penso che ci sia una bella 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 influenza in atto ok tesoro ascolta facciamo così per quanto riguarda questo status intanto facciamo che rimette via la luce del tutto voglio andare a controllare meglio anche la gola quindi apri bene apri 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 benissimo ok così apri apri guarda ti abbasso anche un po' la lingua vieni qua vai no 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 questa gola non mi convince proprio 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 per niente se sai ma proprio per niente intanto una cosa che possiamo fare ti do una di queste caramelle per niente per niente per niente queste sono caramelle naturali che rivendiamo anche qui nella mia farmacia sono fantastiche perché appunto sono tutte biologiche naturali con limone e zenzero sono fantastiche, c'è anche il miele all'interno te ne vado a dare una poi in realtà se vuoi te ne lascio anche qualcun'altra prima di andare via queste mi raccomando o comunque una caramella simile tienila sempre in borsa perché può sempre capitare quando non si sta bene di avere bisogno ecco qualcosa di modente, certo prego, tieni qui, mangiala subito Sisi perché questa aiuta tanto ok andiamo avanti, intanto che abbiamo quasi finito di provare la febbre io ti do già qualcosina da acquistare assolutamente per la tua condizione allora io ti direi che per quanto riguarda appunto il liberare il naso eccetera quello che io ti consiglio che è il mio farmaco prediletto in questi casi è questo questo si chiama Fluimucil, non so se lo conosci, eccolo qua questo secondo me per quanto si è un po' chiusi, congestionati è fantastico è proprio fantastico perché sono bustine molto semplici tu preferisci le bustine o le pasticche proprio le bustine del mondo sono fatte in questo modo e vanno sciolte in acqua e queste qui hanno un gusto tra l'altro molto buono di arancia quindi non sono difficoltose da assumere e sono un po' più leggere di tanti altri farmaci per liberare le vie respiratorie però fanno assolutamente inoltre questo è ottimo, io te lo consiglio moltissimo esatto, queste qui devi prenderne due volte al giorno diciamo che non è indicato se prima o dopo i pasti io consiglio sempre dopo i pasti perché comunque potrebbe creare un po' di acidità nello stomaco questo è molto molto buono te lo consiglio poi ecco, intanto possiamo andare a prendere il nostro termometro fammi vedere ok come immaginavo hai 38 no 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 quindi dobbiamo assolutamente anche intervenire con qualcosa che possa passare la febbre quindi assolutamente adesso mangi qualcosa qui c'è un ah ok hai dietro sempre uno snack che è bravissimo poi vai assolutamente con tachiperina per abbassare la febbre non c'è nulla di meglio sì direi questa qua mille assolutamente eh certo non sei più un pippo quindi assolutamente mille questa purtroppo ce l'ho sì in pasticca queste qua sono io ho io ho ho io ho io ho sì, non sono piccolissime però dai, ce la puoi fare massimo all'interno comunque le pasticche sono tutte visibili nel senso che hanno questa lineetta al centro, le puoi tagliare con un coltello e prenderla in due volte quindi questa assolutamente bisogna che la prendi benissimo ok, sì, stavo guardando altri farmaci ma secondo me con questi dovresti essere a posto l'unica cosa che ti volevo consigliare è qualcosa di integrazione perché vedo che comunque sei un pochino pallidino un po' cagionevole quindi bisogna assolutamente integrare un po' le difese immunitarie in questo periodo perché altrimenti con l'arrivo della stagione fredda ci siamo alla di continua guarda io ti consiglio questa confezione che è un maxiformato molto conveniente tra l'altro questo si chiama massigen è semplicemente potassio e magnesio ma devo dire che alla fine sono diciamo le due integrazioni che servono maggiormente quindi questo è fantastico sì questo è una bustina al giorno io la prendo dopo colazione lo assumo da un po' ormai ed è veramente un ottimo integratore quindi questo te lo consiglio assolutamente perfetto ok allora intanto che abbiamo fatto tutta la spesa diciamo andiamo a vedere questo braccio perché guardate no no assolutamente può capitare perché ci sono alcuni animali chiaramente che non sono super docili però potrebbe essere un problema perché vedo che è un po' confino rosso quindi no 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 andiamo a disinfettarlo allora possiamo usare semplicissima mucchina questa è quella proprio medica questa qui guarda questa fa sempre comodo averla in casa perché è utilissima sì questa è fantastica un'alternativa guarda nel caso ho anche il classico l'isoforma questo è sicuramente meno come posso dire specifico però è un disinfettante un po' da banco che si trova ovunque quindi io personalmente preferisco la mucchina perché è un pochino più specifica sì è un pochino proprio studiata apposta proprio per questo magari è un disinfettante che fa molto comodo avere a casa quindi nel caso te lo metto assolutamente in casa però questa qui proprio per in questo caso secondo me è migliore ok andiamo a disinfettare prendiamo un po' di contone allora andiamo a metterne un po' bellissimo andiamo così a disinfettare bene eh sì dobbiamo togliere tutto perché si è anche un po' incrustato perfetto bisogna che mi stai attento mi raccomando fare cavolate perché non si scherza con questi graffi qui potrebbero proprio infiammarsi benissimo ok adesso andiamo a mettere un bel cerotto perché allora posso avere sia questo qui quello diciamo a nastro molto comodo oppure classicissimi cerotti questi qua secondo me sono i migliori perché sono quelli che hanno diciamo il tessuto traspirante questo qua bianco non di cotone morbido 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 non i classici diciamo cerotti quelli color pelle ma quasi plasticosi per support quindi questo oppure nel tuo caso perché è una ferita un pochino più esatto circoscritta nel centro così possiamo usare questo morbido qua questo qua con sì un pochino più quadrato esatto andiamo guarda un pochino vedi? vabbè allora qui non lo vieni allora vieni qua ok, perfetto ok vieni qua vicino, ti gira proprio il braccio ok andiamo ad obbligarlo ok vieni qua ok mettiamo ok così ok perfetto sì perfetto così dovrebbe andare mi raccomando questi qui io te li do te li metto anche questi insieme alle altre cose perché devi assolutamente 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 la tachipirina questo qua il fluimucil questo qua per appunto il raffreddore il disinfettante è e anche l'integratore questo qua perfetto e le caramelle te le regalo sì 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 dai dai con i prezzi che hanno oggi queste cose dai ok è tutto in cassa perfetto allora guarda io ti lascio dalla mia collega Andy che ti fa poi tutto il conto se hai la tesserina puoi scaricare esatto benissimo mi raccomando mi raccomando stai riguardata riprenditi perché questi questi malanni influenzali dobbiamo debellare subito ok dai mi raccomando spero di vederti in altre circostanze presto ok buon riposo riprenditi buon riposo 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 Grazie.